Tanto il cognome non lo dirò, salto i cognomi e ti dico a te Marika che mi hai fatto fare tutto questo nel senso che mi hai tu dato un'immagine, mi hai creato come hai voluto tu la tua immagine, non so come spiegarti tu mi hai detto prenditi, mettiti un paio di occhiali da sole nel video e io lo sto facendo ti sto vedendo come un cane e spero che tu, voglio che tu mi faccia pubblicità sui miei video se riesci so che ti sto parlando come a distanza di chilometri, non so come spiegarti, tu lo sai che ci vediamo non domani ma dopo domani perché ho problemi, domani ho problemi, ho i miei lavoretti da fare ci vediamo dopo domani, tanto il cognome non lo metto e si può dire Marika il tuo nome mi piace assai ricordati, cuore, I love you, angelo, freccia e ping, mi tiro un'arcata qui, una frecciata del cuore e io vado via, vado nelle nuvole, volo come un gabbiano, qua 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 no dai sto scherzando eh, o non prendermi in giro dopo domani, ciao